Buona mattina Adesso copiamoci di una tendenza che arriva dall'America ed è che è molto interessante. Perché comprare? È molto meglio noleggiare e avere meno rotture di scatole. Siamo oltre le rate. Mi urge adesso un economista, Fabio Fortuna. Quanto vale questo mercato e che impatto ha sull'economia? Il mercato a livello internazionale vale molto, come ha detto lei in apertura. Possiamo dire miliardi? Miliardi, ci sono dei dati a proposito, 137 miliardi nel 2023, poi dipende dalla fonte dell'analisi. Comunque è un mercato che si è sviluppato nell'esperienza anglo-americana, anche in Italia, il noleggio è sempre esistito. Ricordiamo Rent Car. Oggi però si estende a beni a cui prima non eravamo abituati. La lavatrice. Addirittura si pensa a ferro d'assilo, anche se non è attuato. Ci sono anche delle case automobilistiche che ti permettono, dopo aver acquistato l'automobile, di fare un abbonamento temporaneo per avere, che ne so, d'inverno i sedili riscaldabili. Certo, certo. Ci sono tutte formule a cui bisogna stare attenti, perché comunque questi contratti di noleggio sono diffusi ormai da decenni anche in Italia, ma non hanno una regolamentazione specifica nell'ambito del Codio Civile. Quindi il consiglio è di stare molto attenti, quando si stipulano questi contratti, alle condizioni che si dovranno poi sostenere. Cosa sta realmente cambiando sui beni rifugio? Per esempio l'Italia è uno dei pochi paesi del mondo dove c'è un 70-80% di proprietari di case, cose che nel resto del mondo non è così. Sì, sì, confermo. Noi siamo molto attaccati al famoso mattone, quindi tutto il 70% della popolazione è proprietaria di casa. È anche un po' complicata l'inversione di tendenza. Ecco, noi abbiamo una mentalità più radicata, più abitudinaria, quindi l'innovazione ci impaurisce sempre. Il mondo anglo-americano è differente dal nostro. Noi arriviamo sempre qualche decennio dopo, anche in questi discorsi. Leasing negli anni 80, che è una derivazione dell'allocazione, adesso sempre dagli anni 80 è noleggio. Queste forme hanno successo, per certi beni, più difficile l'estensione di cui stiamo parlando e comunque contribuiscono a una maggiore velocità di cambiamento. E questo può essere un bene per l'economia anche in termini di sostenibilità. Mi viene in mente, tra le varie forme di noleggio che si stanno sviluppando, anche quello degli abili da sposa. L'abili da sposa, sì, oggi però io quella è una cosa che vedo più come necessità fa virtù, cioè anziché spendere una grossa cifra, noleggi. Ma quanto incide la crisi economica? La crisi economica incide, come diceva in precedenza, ha inciso anche la pandemia. Quindi ci sono dei fattori. Incide il fatto che comunque ci sono difficoltà economiche generalizzate. Quindi c'è risparmio in Italia, perché noi abbiamo 1.765 miliardi sui depositi bancari. Però quel risparmio si concentra in un ambito ristretto della popolazione. Quindi molti hanno difficoltà per andare avanti e dall'altro lato però bisogna cercare di alimentare i consumi che stanno scendendo. Sembra un po' stonato che in un momento di crisi noi si parli di queste cose. Chiedo scusa a chi non riesce ad arrivare a fine mese a sentire parlare di noleggi, di auto, di supercar o di queste esperienze. Però è uno dei tanti aspetti della nostra società e noi lo esploriamo. Ricordiamo anche che l'economia del noleggio non riguarda questi beni di lusso principalmente. Cioè questo è un aspetto, ma poi abbiamo il noleggio che riguarda le auto normali, che riguarda i telefonini, che riguarda tanti altri beni di cui tutti hanno necessità. Ognuno di noi deve fare un calcolo di convenienza. Comunque, bellissimo, siamo partiti dal noleggio e dall'acquisto, siamo arrivati alla solitudine e io mi permetto di chiudere e ringraziare i nostri ospiti prima della pubblicità dicendo che la vita è come un ponte, puoi attraversarlo ma non costruirci una casa sopra. A tra poco. Buon mattino Grazie per la visione!